E' scesa Candide Bianca in Piazza della Repubblica, rendendo così ancora più suggestivo il centro storico di Cortona. La nevicata è stata una degli eventi di Natale di stelle, luci e riflessi. Nel borgo della Val di Chiana è stato così un altro fine settimana di divertimento e spettacoli, dai mercatini alla casa di Babbo Natale, passando per il light mapping. Ma non solo, il ricco programma di eventi nell'ultimo weekend ha toccato anche Camucia e Terontola, con l'inaugurazione dei lavori di ampliamento del nido d'infanzia. Spazio poi anche alla solidarietà Calcit Valdichiana, Auser e Proloco Cortona Centro Storico hanno organizzato una rete di colori per la vita in Piazza della Repubblica, per raccogliere fondi per il Comitato e per la Fondazione Meyer con le coperte di lana realizzate dalle volontarie. Sempre aperte le mostre al Centro Convegni Sant'Agostino, del Fotoclub Etruria, i luoghi del cuore degli alunni dell'Istituto Scolastico Cortona 1 con le opere di riciclo e riutilizzo e la mostra Natale in arte a cura di Domenico Monteforte. Inoltre a Palazzo Ferretti l'esposizione Ghirnica Genesi di un capolavoro, aperta ad ingresso libero sino al prossimo 7 gennaio.